Bentornati ragazzi, sono JoeyHDSpo Io sono JoeySpo e sicuramente vi ho stonato due orecchie Ma va bene lo stesso Sono qui con questo video, con questo nuovo gioco Si chiama Gems of War Ora vi dico io che cosa Gems of Wars è un gioco che mischia i generi rompicapo, GDR e strategia Un gioco tipo un grandissimo minestrone Allora questo è un gioco rompicapo sicuramente E il gioco è solo in inglese E arriverà in italiano E' un free to play Quindi è un gioco gratuito Scaricatelo da Steam Se volete aggiungermi Mi chiamo JoeySpo Se volete aggiungermi su Steam JoeySpo Questo è un gioco che bisogna abbinare Allora ho visto ci sono questi vari giochini Abbinare queste chiacchiere qua Queste cose qui che sono strane Questo è un rompicapo Rompicapo perché ti rompe le palle In sostanza Ti rompe le palle Questo qui Ma è un gioco stupido 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 Non so che servono questi teschi New turn Cosa sarebbe? Ora tocca a lui O a me O a lui Ah questa Ma è una scuola Ma è una scuola Ma è una scuola Ma bu Ah Tu puoi ammettare tre scuola No Che cazzo Ah per ucciderlo Va bene bene Ho vinto Cioè che Bah Alziamo un po' il volume Del damage Va bene Fa un culo Sì sì Fight Se è solo rompicapo Oh è una cacata pazzesca Perché i rompicapo Mi stanno un po' si coglioni Sì ci ho giocato parecchio Nei Nei misi a venire Ma Non posso giocare sempre a E muoviti Ah Qua Ah io no Nele cose Sì ho capito Ho capito Per potenziare La luna Vediamo L'altra luna Vediamo Questo Cosa fa Non fa un cazzo Ma bo Senza senso Il fuoco La sole Il sole Il teschio Non fa un cacchio Il Fuoco Il L'erba La luna La luna di nuovo Il teschio Hop E non è morto ancora Che cazzo Che cazzo è Sta cosa È un free to play Quindi Non aspettatevi Grande cose Anche se Ci sono veramente Giochi free to play Fantastici 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 Ve ne porterò Ragazzi Ve ne porterò Ve ne porterò Anche un bel po' Di rei Questo Boh Per ora Sembra quanto Una cagata Perché Se giochi Così Non Non mi piacciono Se c'era un po' D'azione Purdi Sa scritto Che dicono Che è un gd ruolo Qua stiamo facendo Solo rompicapo Ma Non va bene Così ragazzi Non va bene Gli sviluppatori Non so neanche Chi sono Quali sono Gli sviluppatori Gli sviluppatori Gli sviluppatori Usano le gemme Per poter Up Tu Puoi cliccare Per vedere Il suo Spell Ho capito Anche L'avversario Il suo Turno Non ti permetterò Di fare un cazzo Eh L'avversario Usa le gemme Per potenziarsi In sostanza Allora Tocca a me Potenziarmi Mi potenzio Che voi non si capisce Come cazzo Si fa a potenziare Potenzio Massimo Potenzia No no Turno mio Turno mio Maledetto Maledetto Turno mio Opla No Peccato gli scheletri Si Turno mio Vai Potenza Massima Sto un po' Delirando Scusate Ma Dai Come cazzo Ha fatto Ma Vaffanbagno Cioè Vediamo questi Soli qua No E dai Sto è turno mio Ma Va Tenne Ma Ma Andate A quel paese No Va Dai Extra turno Boulder No post Abbiamo Siamo morti Extra turno Grazie Grazie Motocamè No E dai Non ci credo Di nuovo Motocamè Di nuovo Mamma mia Questo è peggio Questo gioco Sembra peggio Di FIFA No Mette questo Abbina questo Io abbino queste E tu Questi lo distruggo Beh Eh Scusate E la parte GDR Questa è una strategia Vabbè Qua c'è un pizzico Di strategia Che c'è My young friend Non dare guarda Vabbè Vai I'm going to wait Scream E fa un bagno Vabbè Se ci mi interessa Sì Sì Però ora ci vuole La parte La parte GDR Va bene Confermo Giovispo Sì Allora Siamo Elfi Kurak Naga Ma tutte le femmine sono Ah perché c'è il sesso femminile Questo fa ridere a bestia Il naga Il rasca Il wargear L'human Rasca Questo mi più piace Tutto questo codino Qua Diel Eh Broken Spire Facciamo Evi Questi Sì Va bene Questa Vediamo Cos'è questo Va bene Sì Sto per Fight Fight Sì Fight Come fight To battle No Di nuovo No Ma questo È un gioco prevalentemente Srompicapo Lo devono specificare Non mi sembra proprio Un mischio Mi sembra solo Un rompicapo Un rompipalle Non so neanche Quanti minuti Abbio registrato Grazie per la botta Di culo Affanbagno Ah Ora tocca al mio avversario Ora Ora tocca a me Ho capito alcune cose Allora Quattro combinazioni Affanculo Tre scheletri Una botta Il mio scudo Sta per cedere Cinque punti vita Mi sono rimasti Quando si abbinano Quattro Attacchiamo Meno tre Questo è l'attacco Di tre Questo fa l'attacco Di due Addice Nick Attivato il potere speciale Meno tre Rimasto cinque Di salute Stavo a dire Si combinano quattro Si può fare Un extra turno Si combinano tre Si fa Un turno normale Ottimamente un po' I poteri Diciamo Ma va Eh vedi Extra turno Extra turno Ora può fare un'altra mossa Si potenzia Io ora devo potenziare il fuoco Ma Oh oh Questo cinque Mana sugar 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 Più extra turno E Facciamo una botta di scherzo Una botta di Di vita Vai Molto Perfetto Mi sta annoiando Questo gioco Non Non sono portato Cioè non mi piacciono tanto questi giochi A voi piacciono questi giochi Così Ehm Rompicapo Ditemi ragazzi Se a voi piacciono questi giochi Rompicapo A me Non particolarmente Si fire mystery Non lo so che cazzo devo fare Si non capisco un cazzo Vabbè Equipaggiato Equipaggiato No mettiamo questo Equipaggia Equipaggiato Perfetto Default Claim down to goblin Default The ogri Fight Pure questo Dove distrugge Alla miseria C'ho questo Questo Allora questo Quale ha Destroy arrow Green gems Destroy Non ho capito un cazzo Questo che cos'ha Devi Ah questo è acqua Questo è fuoco Qua si può mettere No Qua cosa si può fare Destroy arrow Che sogno Perché fa venire questo gioco Quando vi viene lo sbadiglio Vuol dire che il gioco Non è bello Non è Bello Non siete portati Può essere A voi piacciono questi giochi Dittimi ragazzi A voi piacciono questi giochi Rompicapo Ma non particolarmente Ora è mio turno Ti do una bella Botta nel culo Ok Manasciugalo Manasciugalo Tocca a me Extra turno Vediamo se riusciamo a fare Qualche extra turno Oh bella Manasciugalo Shurg Shurg Manasciug Shurg Che cazzo significa Manasciugalo Manasciugalo No il fuoco Si potenziamo il fuoco Abilità Potenziamo l'abilità New turn New turn E no E no E no E no E no E no Io ti do le botte E ti do E io ti do le botte E io ti do le botte Ti do le botte Oh Potenziamo il fuoco Potenza massima Sarei No 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 Adesso la turno No 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 E fammi un sorriso Cazzo Fammi un sorriso Un sorriso Fammi un sorriso Nuovo turno Nuovo turno Allora No E facciamo questa luna Anche se non serve a niente Ma va bene Lo stesso No no Cacchio Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo No E no E di nuovo Non ci siamo qui E scusami Come Ehi Boulder Ecco Mufo l'attacco potente Grazie Grazie mille Grazie Grazie mille facciamo così e nooo ma perchè sempre nel mio avversario capita qualcosa di queste cose ma la la ma no ma no ora tocca a me io faccio l'estraturno posso fare un attacco e muore abbiamo vinto abbiamo vinto e ragazzi questo gioco termina qui se arriviamo a 20 likes vi porto il seguito, la continua di questo gioco se vedo che non arriviamo a 20 likes non serve a niente perchè neanche a voi interessa a me interessa poco però se a voi interessa vi porterò altri video dunque io direi di chiudere e ci sentiamo ciao ragazzi